Gentili telespettatori, buona giornata, rassegna a stampa di oggi giovedì 29 giugno 2023. Corriere della sera, Meloni attacca su MES e Banca Centrale Europea, ordine del giorno con il sì del governo contro Visibilia. Scoppia il caso, santa anche la Premier, la misura non è nell'interesse nazionale per quanto riguarda il MES. Critiche sul rialzo dei tassi, Schlein mette in imbarazzo l'Italia. E poi voti da Forza Italia e Fratelli d'Italia per il 30% degli italiani, il sondaggio. E poi andiamo adesso a vedere la Repubblica che titola Meloni processa l'Unione Europea, la missione europeista di Panetta nell'Italia che attacca la Banca Centrale Europea, Scintille in Parlamento. La Premier contesta il rialzo dei tassi, la cura della Banca Centrale è peggiore dell'inflazione, i nostri interessi sono altri. E adesso andiamo a vedere la stampa che titola Treni in tilt per i cantieri d'estate dal 6 agosto alta velocità deviata sulla linea storica dal 14 al 18 di mezza ati i convogli. E poi vediamo maggioranza nel caos, sanzione per Sant'Anchè, il PD l'hanno scaricata. E poi vivere da pitonessa tra ville, twinga e spot. E poi andiamo a vedere Mess e Tassi, Meloni accusa la BCE irritata con l'Italia. La Premier Lagarde ci porta in recessione, Schlein destra imbarazzante. Treni da comizio alla Camera, non firmiamo il trattato, mi assumo la responsabilità. E adesso andiamo a vedere Libero Quotidiano che titola Salvini sperona la racchetta e il Senato dà ragione all'eghista, niente processo per averla chiamata, zecca. Regione indomita nel mio Molise, normale vinca il centrodestra, dice Vittorio Feltri, Schiaffi della Meloni APD e Unione Europea, il dibattito in Parlamento in vista del summit europeo di oggi. Il Premier contro i rialzi dei tassi della Banca Centrale Europea e accusa la sinistra sul MES danneggia l'Italia. E poi andiamo a vedere Preside li butta, processata, incubo, banchi e rotelle inutili, ma intoccabili. Quindi ci sono, te li tieni, guai se li butti, ti processano. Andiamo a vedere adesso il giornale che titola Meloni a muso duro, Giorgia le canta all'Europa, la Premier alle Camere attacca la Banca Centrale Europea a alzare i tassi e una cura dannosa, poi rinvia l'approvazione del MES, farlo ora non è nell'interesse dell'Italia. Frodi Covid, il sì del governo è un caso, il PD, Sant'Anché, sfiduciata. E poi andiamo a vedere il fatto quotidiano. Sant'Anché, gli autogol di governo e negma, sì alla mozione PD e conti svelati. Meloni attacca la BCE, prepara la giravolta MES, corte dei conti, basta con doni, sono devastanti. In realtà la Meloni non ha detto, io dico no al MES, ha detto rinviamo la decisione, bisognerà poi guardare il contesto, quindi come dire, lo firmeremo dopo, non adesso. Non ha detto realmente non lo firmo, non lo voglio, ma vediamo dopo, vedremo il contesto. E poi, tutti contro la pace, ma il Papa non si arrende. Doppia missione, zuppi a Mosca e le lemosini e le portaviveri agli ucraini. Andiamo a vedere adesso la verità. E poi andiamo a vedere. I PM stringono il cerchio, crollo a causa dei mancati investimenti dei Benetton. Andiamo adesso a vedere il tempo, che è sempre quello del giorno prima. La prima pagina del tempo non è mai pronta. Questa è quella di ieri, Meloni sfida l'Europa. Andiamo a vedere adesso il messaggero. L'inflazione rallenta, la corsa Meloni, tassi troppo alti, la cura BCE più dannosa della malattia. Altro stop al messa, giugno l'indice dei prezzi, l'inflazione è al 6,4. Ma la garde Fed ancora rialzi. Andiamo adesso a vedere il sole 24 ore, inflazione giù al 6,4% in vista rincari per gas, bollette della luce, più 0,4%. Mentre il carrello della spesa è ancora altissimo, più 10,7%. Baroni, il governo sospenda la tassa sugli extraprofitti dell'energia. Sanatorie fiscali, il grande flop. A Roma, tre taxi per 70 persone. Centralini KO a Milano. PNRR, solo a settembre l'incasso della terza rata. Andiamo adesso a vedere il mattino di Napoli. Tassi più alti, stangata a sud, dossier di Confindustria, penalizzate 160.000 aziende. Sarà più difficile l'accesso al credito. Meloni incalza la BCE, il MES non ora e l'Italia non diventerà il campo profughi d'Europa. Andiamo a vedere adesso il gazzettino. Via la patente per chi assume sostanze, nuovo codice della strada, fino a 30 anni senza guida per recidivi. E poi, svolta Banca Italia, panetta al posto di visco e figliuolo commissario alla ricostruzione. Andiamo adesso a vedere Il secolo XIX, Meloni attacco all'Europa. La Premier contro la BCE, l'aumento dei tassi semplicistico e sbagliato. Poi conferma il no al MES. Ma come vi dicevo, è il no per il momento. Realmente la Meloni ha detto no al MES, ha detto ci pensiamo dopo. Pertanto, io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie. 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 Grazie.